Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale e benvenuti a questo vlogmas numero 6, ve lo faccio in cinese. Oggi vi parlerò di come si festeggia il Natale in Cina. Premessa, sono in pigiama, vestaglia, struccatissima, perché insomma oggi è domenica, quindi è il giorno per eccellenza dove stare in pigiama. Ditemi che anche voi siete in pigiama in questo momento, poi fuori piove, non avevo voglia di truccarmi, prepararmi, sto facendo il video dal bagno, un classico. Portate pazienza. Detto questo, se mi conoscete, se mi seguite da un po', sapete che ho vissuto cinque anni e mezzo circa a Pechino in Cina per studio e poi lavoro. E per chi non mi conosce, trovate un po' di informazioni sia qui nel mio canale YouTube, sia su Instagram che soprattutto su TikTok, ho trovato un sacco di aneddoti a riguardo. Detto questo, andiamo, sarà un video molto breve perché per quella che è stata la mia esperienza, perché ovviamente parlo della mia esperienza personale, non c'è tantissimo da dire, nel senso che in Cina il Natale non è proprio, secondo me, sentito, cioè non è una festa, diciamo, culturale sentita tanto quanto si sente da noi. Cioè loro lo festeggiano, mettono tutti gli addobbi perché comunque gli piace un po' festeggiare tutte le feste, anche quelle occidentali, perché è una cosa considerata cool. Come, un po' come dire che anche noi abbiamo iniziato a festeggiare in Italia Halloween, però in realtà è una festa originaria americana, quindi sicuramente festeggiarlo in America ha tutt'altro, è tutt'altra cosa, è molto più sentito, mettono, magari fanno un sacco di cose in più di noi, eccetera. Ecco, un po' la stessa cosa con il Natale in Cina, nel senso che loro mettono tutte le decorazioni, e qui vi metto qualche foto per farvi capire che anche dove abitavo io, nei vari appartamenti, magari decoravano gli alberi con tutte le lucette, poi vendono gli alberi di Natale e anche in qualsiasi supermercato si trovano decorazioni, coroncine a tema da mettere in testa, eccetera. Però è anche vero che dipende dal tipo di lavoro che fate, beh, allora se studiate lì e siete occidentali e studiate in un'università per occidentali, solitamente il periodo natalizio c'è vacanza, perché ovviamente loro sanno che per noi è un periodo importante e quindi non c'è lezione. Però nelle università cinesi, di solito almeno, e anche se lavorate per magari delle aziende cinesi, potrebbe essere che i giorni di Vigilia, Natale, Santo Stefano, eccetera, si lavori, perché per loro comunque non è una festa nazionale, ok? Ok, ecco, poi magari può essere che, non lo so, se siete stranieri in un'azienda cinese, magari ci parlate, vi diano il giorno libero, non lo so, però in linea di massima succedono anche queste cose, quindi capite che è meno sentita la cosa. E cosa si fa? Solitamente, per quella che è stata la mia esperienza personale degli anni che ho trascorso il Natale lì, solitamente ci sono un sacco di ristoranti, soprattutto ristoranti occidentali, che organizzano il cenone alla vigilia oppure il pranzo naturalmente natalizio. Quindi solitamente con un gruppo di occidentali, di varie nazionalità, non solo italiani, solitamente sceglievamo un ristorante, di solito c'è il menu fisso, no? E quindi a tema Natale che si paga a un prezzo fisso e ci sono tutte le portate, cosa normalissima, ovviamente bisogna prenotare. Nella maggior parte dei casi noi andavamo proprio in un ristorante italiano. Non so se ora sono cambiate le cose, quando io ero lì ce n'erano due in particolare buonissimi, gestiti da italiani, poi c'era anche del personale cinese, chiaramente, però diciamo che i prodotti erano tutti importati dall'Italia e i manager, eccetera, erano italiani e tutto quanto, quindi proprio come mangiare in Italia, ecco. E c'erano questi due ristoranti, uno si chiama La Pizza e l'altro Bottega, che erano buonissimi, con prezzi italiani, direi, perché comunque, diciamo che considerando che importavano tutte le cose, eccetera, eccetera, magari anche una margherita costava forse anche un po' di più che in Italia, perché comunque, vabbè, probabilmente, giustamente, anche loro avevano dei costi, però buonissimo. E solitamente andavamo da loro, prenotavamo e facevamo il pranzo o la cena di Natale, e così stavamo, insomma, in compagnia, in gruppo, ci divertivamo, eccetera, e oppure nel periodo natalizio andavamo spesso da Godiva, che è una pasticceria, diciamo, che fa delle buonissime cioccolate calde, e, insomma, un po' le cose normali, poi ovviamente anche da Starbucks, mettevano in vendita tutte le tazze a tema, natalizio ne ho comprata sempre qualcuna, insomma, cose abbastanza classiche, diciamo, però diciamo che principalmente le facevamo tra noi occidentali, forse perché sentivamo di più questa festa. E niente, quindi questo è un po', però, insomma, comunque, ecco, la cosa divertente e anche la cosa super cute è che comunque i cinesi, anche se non è una loro festa, diciamo, nazionale, il giorno di Natale, tutti gli amici cinesi mi mandavano gli auguri dicendo Buon Natale, eccetera, cioè anche se per loro non era comunque una cosa super sentita, sapevano che per me e per gli altri lo era, e quindi ci mandavano gli auguri super carini. E basta, ragazzi, questo è quanto, quindi è stato molto breve, però, insomma, così ve lo volevo raccontare, visto che devo fare un video al giorno e non è così facile come sembra, ho pensato di raccontarvi un po' come lo vivevo quando, come vivevo questa festività quando vivevo lì. E basta, e niente, ragazzi, fatemi sapere se vi è, se avete trovato interessante questo video, e niente, ci vediamo domani con un altro Vlogmas. Ciao!